Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta pera e cacao. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, uova, tuorli, zucchero, miele, vanillina, sale, cacao, olio evo, pere tagliata a dadini, lievito per dolci e pere sciroppate. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando all'interno del boccale la farfalla. Mettiamo le uova, i tuorli, lo zucchero, il miele, la vanillina, e un pizzico di sale. Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 8 minuti, 50 gradi, velocità 3,5. A questo punto aggiungiamo la farina, il cacao, il lievito, Chiudiamo con il coperchio il misurino e azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 2. Aggiungiamo il bimbi per 20 secondi a velocità 2. Trasferiamo il composto nella ciotola. Aggiungiamo le pere e amalgamiamo delicatamente. Trasferiamo in una tortiera del diametro di 24 cm ben imburrata. posizioniamo adesso le pere sciroppate. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 45 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta pere e cacao. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!